Sei pronto? Chi sei? Io sono i Borg. Ma è una contraddizione. I Borg hanno una coscienza collettiva. Non ci sono individualità. Io sono l'inizio e la fine. L'uno e il molteplice. Io sono i Borg. Salve. Sono curioso. Tu controlli la collettività, Borg? Presupponi una diversità che non esiste. Sono io la collettività. Forse dovrei riformulare la domanda. Vorrei capire come sono i rapporti organizzativi. Sei tu il loro capo? Io porto ordine nel caos. Una interessante ma criptica risposta. Tu sei nel caos, Data. Tu sei la contraddizione, una macchina che desidera essere umana. Visto che sai tante cose di me, saprai anche che sono programmato per evolvermi. Per migliorare me stesso. Anche noi stiamo cercando di migliorare noi stessi. Di evolvere verso uno stato di perfezione. Perdonami, ma i Borg non si evolvono. Conquistano. Assimilando altri esseri e la nostra collettività, li portiamo più vicini alla perfezione. Io però dubito dei vostri scopi. Questo perché non sei ancora stato opportunamente stimolato.